Credo molto nel progetto di Luigi De Magistris, sono tornato apposta, sono sempre stato ipercritico verso Napoli e verso la mia città perché non mi piaceva il fatto che non si rispettassero le regole in questa città. Vedendo questa opportunità di Luigi De Magistris come un'unica vera opportunità di cambiamento in questa città, ho deciso di ritornare. Cioè stavolta ci credi? Stavolta ci credo, ci credo e ci continuo a credere, ci continuo a credere. Mi convince sempre di più, lo ascolto, ascolto le sue idee, ascolto le sue idee sull'ambiente, sulla legalità e mi convince sempre di più. E sono entusiasmato dall'entusiasmo che vedo che riceviamo noi ogni giorno quando giriamo per le strade. Grazie. Prego. Grazie.